E' difficile trovare un personaggio come te nella vita, ne vorrei trovare tanti, ma sono talmente pochi che lo riesco a trovare, e spero che vi rivedete amore questo, perché sono un grande ammiratore della Russia, ho dentro di me Paz, anche tutti, Puskin, tutti questi grandi Magliacoschi, lei è il fulcro di questo mio modo di vedere il mondo, perché penso, ho 64 anni, maestro, penso di ancora, non ho capito niente, però sto in una fase di ricerca che non finisce più, come faccio a finire, mi dica lei, che è stato talmente, talmente grande, grazie, 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 bravo, bravo, io ho detto a me che è difficile incontrare tanto personaggio come io, mi muore e dici che è più difficile vivere con questo personaggio, ma io sono molto lieto perché admiro la pittura, io avevo i miei casi, avevo i rigari di Renato Coutuzzo, di Corrado, Cari, di Sergio Vachi, altri molto degni pittori italiani, non si può essere intellettuale, non si può essere intellettuale russo senza admirazione per la cultura italiana, totalmente, e questo per me ascoltare adesso il nome dei miei professori di poesie come Maikovsky, Pushkin, Maikovsky, I Senin, e questo mi dà una fe al futuro delle russi, perché le morti, tutti, tutti le morti sono vivi, e questi grandi poeti russi stanno con noi, Dostoevsky, Tolstoi, loro, spero che loro aiutaranno a noi per trovare la strada corretta al futuro, la strada dei nostri figli e figli di nostri figli. Grazie.